Nessun voto per i saldi invernali in Sardegna, con una spesa che si attesterà sui 259 euro a famiglia. Ancora troppo lievi i segnali di ripresa nell'isola in cui ancora regna l'incertezza. E questa è l'analisi della ConfCommercio Sardegna sui saldi invernali che prenderanno il via il 5 gennaio e che si concluderanno il 5 marzo. Nessuna illusione per gli operatori del settore che hanno già fatto i conti con le scarse spese effettuate dai sardi nel periodo natalizio e non pensano che le vendite straordinarie possano mutare il trend della stagnazione dei consumi, anche se nella nota mensile dell'Istat l'indicatore anticipatore dell'attività economica si registra una ripresa. Il Centro Studi della ConfCommercio Sardegna stima che rispetto ai saldi del 2016, su base regionale possa esserci un lieve incremento dello 0,1%. Questo sarà dovuto essenzialmente alle alte percentuali di sconto applicate dai commercianti sin dai primi giorni che potrebbero anche partire dal 30 al 70%. Secondo l'indagine dell'Associazione la spesa media per famiglia si aggirerà sui 259 euro contro i 344 euro a livello nazionale. Procapite nell'isola si spenderanno 111 euro mentre nel resto d'Italia la stima è di 147 euro. I consumi stentano a ripartire, la fiducia dei consumatori e delle imprese non sembra beneficiare delle note leggermente positive che arrivano dalle statistiche, sottolinea in una nota il Presidente regionale di ConfCommercio Alberto Bertolotti. I saldi rappresentano un'occasione importante per i consumatori a caccia dell'affare e per gli operatori commerciali. Sono fondamentali per recuperare gli investimenti fatti in questi anni di crisi, dal rinnovo dei punti vendita alla gestione dello shop online sino all'acquisto della merce, che purtroppo spesso rimane negli scaffali. Per dare una spinta ai consumi, sottolinea Bertolotti, non bastano sterili affermazioni sullo stop agli incrementi delle tasse, ma servono azioni di sistema che permettono ai consumatori di avere un maggior potere d'acquisto e ai commercianti di poter continuare a stare sul mercato. Politiche di sostegno e rilancio dei consumi, manche regole certe e moderne, e più controlli non solo sul fronte all'abusivismo, ma anche sulle vendite promozionali dilaganti prima della via ufficiale dei saldi.